Certamente non è una cosa da romanista che si fa, però vi devo far vedere qui a Fiuggi, all'uscita dell'autostrada c'è il pullman della Juventus con l'albergo che ha aspitato i giocatori della Juventus perché lo sport è tutto bello, quindi anche se siamo da un'altra squadra dove volevamo far vedere l'albergo dove sta alloggiando tutta la squadra della Juventus che giocherà con il Frosinone oggi e ci sono tutte le persone che aspettano, giù in fondo si dovrebbe vedere anche il pullman però non ci fanno avvicinare più di tanto e poi non me lo vogliamo anche avvicinare perché sono tutt'almente di un'altra squadra andiamo via, i vigili fischiano